Preghiera della Sera Signore Gesù Cristo, Tu ci hai detto che un giorno, in un tempo che solo il Padre conosce, ritornerai sulla terra, con tutti gli angeli e i santi, per distribuire ricompense o punizioni, secondo come avremmo usato i talenti che ci hai dato. Interceda per me, Maria, mia amata Madre. Adesso è nell'ora della mia morte, affinché io sia giudicato degno. Con tutti coloro che amo, di stare alla Tua destra e di sentire le parole tanto attese. Bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del Tuo Signore. Amen.